Ecco a voi Mistman 5, Eminem, Public Emergy, Ram & DMC, Fabri Fibra, Mark Ash, quali sono i suoi modelli dello Star System Rap che si ispira? Allora io mi ispiro principalmente a Eminem perché mi piace la sua aria provocatoria, soprattutto. Poi c'è Spera e Basta per il suo slang e Saquan per il suo mondo di fare i testi. Il suo rap è da denuncia sociale o autobiografico? Il mio rap è da autobiografico perché mi piace scrivere quello che sento, la mia passione, racconto determinate cose e la gente sa quello che dico e faccio. Che significa fare rap oggi in Italia? Fare rap oggi in Italia significa farsi un culo tanto, bro. E quindi bisogna impegnarsi, fare le cose per bene e metterci passione e determinazione. e raccomando a tutti i ragazzi che vogliono iniziare ora di impegnarsi e di fare le cose per bene. E ricordatevi prima di voi ci sono sempre io e comunque ragazzi questo outfit me l'ha dato Emilio Branca a specchia. Mi raccomando. Mi raccomando. non ho iniziato con la manovla perché è in questi minuti che arriva...